Alzi la mano chi, a inizio campionato, aveva pensato ad un rende quinto in classifica con 31 punti alla sosta invernale e alzi la mano chi, qualche settimana fa, aveva immaginato a questo punto un Cosenza settimo con 29 punti dopo un inizio di stagione disastroso e decisamente al di sotto delle attese. Pronostici che saltano e squadre che iniziano a essere se stesse in ritardo. Per quanto concerne i bianco-rossi, la squadra di Trocini ha giocato finora un campionato decisamente al di sopra delle aspettative, un gruppo senza particolare individualità ma unito, compatto e molto ben allenato. La sosta servirà a lavorare, a recuperare energie e al rientro la squadra calabrese andrà a sfidare il Siracusa con in palio addirittura il quarto posto. Dall'altra parte invece c'è un Cosenza il cui rendimento è stato decisamente diverso e altalenante almeno fino a poche settimane fa. Un inizio disastroso con statule sonoro al tecnico Fontana, poi l'arrivo di Braglia e una lenta risalita non senza intoppi. La sosta forse arriva nel momento meno opportuno, la squadra è riduce da 4 vittorie e 6 risultati utili consecutivi. 29 punti non sono il bottino ipotizzato in inizio campionato, ma per come si erano messe le cose, Braglia può essere soddisfatto. Le prime posizioni sono ormai lontane, ma i play-off sono un obiettivo che non può essere fallito.